pace e bene cari fratelli e sorelle ben trovati con la domenica delle palme entriamo nella settimana santa centro e cuore di tutto l'anno liturgico il senso di questa domenica della liturgia particolare che vivremo anche se in modo un po ridotto visto il tempo di pandemia è ben espresso dalla munizione iniziale questa assemblea liturgica è preludio alla pasqua del signore gesù entra in gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione i ramuscelli di ulivo che sventoleremo non sono un talismano contro possibili disgrazie ma sono il segno di un popolo che acclama il suo re e lo riconosce come il signore che salva e libera questo re si manifesta in modo un po particolare e infatti abbiamo la proclamazione del vangelo della passione secondo marco marco come ogni evangelista ha una sua prospettiva espone i fatti in modo schietto asciutto provocatorio non teme di urtarci anzi cerca proprio di farlo come detto dal biblista vanois mette in risalto i contrasti sottolinea il paradosso la croce si rivela scandalosa ma nello stesso tempo è proprio lì che si manifesta il figlio di dio marco sottolinea l'abbandono crescente sperimentato da gesù dal momento in cui gesù si è avviato verso il monte degli ulivi la condotta dei discepoli è presentata in modo negativo mentre lui prega i discepoli si addormentano per tre volte giuda lo tradisce e pietro lo rinnega negando di conoscerlo tutti fuggono e lo abbandonano persino l'ultimo potenziale discepolo un giovinetto lascia il lenzuolo pur di scappare l'opposto di quanto accaduto all'inizio lasciarono tutto per seguirlo ora pur di mettersi in salvo lasciano tutto per abbandonarlo i giudici sia giudei che romani sono presentati in modo cinico a nessuno interessa fino in fondo la verità ma soltanto togliere di mezzo gesù gesù viene massacrato viene consegnato viene offeso vilipeso sulla croce dove pende per sei ore e continuamente messo alla prova ad un certo punto si fa buio su tutta la terra e persino il padre tace gesù in questa solitudine dove sperimenta l'abbandono continua però a pregare ad affidarsi al padre ad essere unito a lui continuando a donarsi fino alla fine e dopo la sua morte il centurione proclamerà veramente quest'uomo era il figlio di dio se ricordate il vangelo di marco è iniziato proprio dicendo vangelo di gesù cristo figlio di dio è la croce che manifesta gesù come vero figlio di dio ma entriamo in questo mistero d'amore perché è un mistero centrale profondissimo soffermiamoci proprio sulla crocifissione di gesù gesù viene crocifisso alle nove del mattino tra due malfattori motivo della condanna il re dei giudei quelli che passavano lo insultavano dicendo ehi tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci salva te stesso scendendo dalla croce così anche i capi dei sacerdoti gli scribi ha salvato altri non può salvare se stesso il cristo il re di israele scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo pensate al tormento che vive gesù continuamente messo alla prova e offeso dalle sue stesse creature ma in fondo qual è il ritornello che riecheggia in queste parole salva te stesso se tu sei davvero il figlio di dio il suo inviato salvati abbiamo qui qualcosa di molto profondo sia sul piano spirituale che esistenziale perché perché in fondo i passanti cosa gli stanno dicendo va bene hai salvato altri ma ora pensa a te salvate ma gesù non è venuto a salvare se stesso ma noi non è venuto a spararsi le pose ma è venuto a dare la vita per noi qual è il cuore del problema è la nostra tendenza a vivere per noi stessi inclini al male feriti dal peccato originale questa è la nostra difficoltà scegliere sempre solo il bene amare sempre comunque fino in fondo fino a darci completamente per gli altri è qualcosa che vorremmo ma che da soli non riusciamo a compiere io da solo non riesco a scegliere sempre solo il bene ad amare sempre incondizionatamente fino alla fine ho bisogno di essere salvato dalla mia incapacità dalla mia incostanza e ciò che è venuto a fare cristo non è venuto a salvarsi a pensare a sé ma a dare la sua vita per noi perché accogliendolo per mezzo della fede potessimo diventare capaci di amare come lui di amare del suo amore e in fondo qual è l'idea di dio che c'è qui dietro se tu sei l'inviato di dio scendi e così ti crederemo perché perché dio farebbe questo l'idea che noi abbiamo di dio qual è è di un dio che ti risolve i problemi che non può permettere che tu soffra qualcuno che abbiamo ridotto ad una sorta di assicurazione contro gli infortuni io ti credo dunque tu mi eviti i problemi qualcuno che non ci tiene veramente a noi alla nostra crescita umana e spirituale qualcuno che semplicemente ci assicura benessere in funzione delle nostre prestazioni religiose che gli sforniamo in fondo è un'idea di un dio un po egocentrico e altezzoso che altro non è che proiezione del nostro io malato pensate a queste continue offese si aggiunge qualcos'altro si fa buio su tutta la terra e gesù che dà voce alla sua angoscia dicendo dio mio dio mio perché mi hai abbandonato cioè gesù sperimenta l'abbandono del padre cioè è come se non lo sentisse più il silenzio di dio gesù si fa carico dell'angoscia di tutta l'umanità di quel distacco tra l'umanità e dio percepisce il silenzio del padre proprio per ricongiungerci al padre attraversa quel buio della sofferenza e del silenzio di dio che tanti e tanti hanno sentito e sperimentato sperimenta l'abbandono ma qual è la cosa meravigliosa come vive tutto questo gesù è indicativa proprio la frase che lui dice l'unica frase che marco riporta nel vangelo di gesù sulla croce dio mio dio mio perché mi hai abbandonato sono le parole iniziali del salmo 22 questo salmo che vi consiglio di andare a rileggere e pregare è una sorta di compendio di ciò che davvero gesù stava vivendo inizia con le parole che abbiamo ascoltato di gesù dio mio dio mio perché mi hai abbandonato il salmista mette in parola la sofferenza che vive davanti alla cattiveria degli altri al dolore fisico che gli è stato provocato ossa slogate assetato sanguinante senza vesti eppure ecco un crescendo un crescendo di fiducia e di lode al signore che si mantiene fedele interviene proprio lì a salvare il suo fedele cosa significa che vedete gesù non sta attraversando la passione come se stesse recitando un copione o come se fosse un supereroe che attraversa baldanzoso le difficoltà no attraversa ciò che di più atroce c'è ma lo vive unito al padre fidandosi che il disegno d'amore del padre passa proprio dalla consegna definitiva del figlio eccoci davanti al mistero della croce gesù sperimenta l'abbandono di tutti e il silenzio di dio ma risponde continuando a fidarsi di dio una sorta di padre non ti sento ma mi fido e proprio attraversando così la sofferenza la riempita di senso e della sua presenza e proprio mantenendosi fedele unito al padre fino alla fine riconcilia l'umanità col padre siamo qui davanti al mistero più grande miei cari il mistero della croce davanti al quale non possiamo che fermarci in contemplazione quante volte nell'ora della prova e della sofferenza anche noi ci sentiamo abbandonati pensiamo che dio non ci sia che non ci ascolti che in fondo non ci ami il vero dramma non è tanto soffrire ma soffrire senza senso ora se gesù fosse sceso dalla croce avremmo ragione di pensare che se dio non interviene togliendoci i problemi non ci ami avremmo ragione di voler evitare tutto ciò che comporta sacrificio e dono di sé ma da quel momento in poi noi sappiamo che non vi è croce senza cristo noi sappiamo che la sofferenza non è il luogo dell'assenza di dio ma può diventare luogo della più intima esperienza di lui noi sappiamo che dio non ci salva tanto dalla sofferenza ma interviene nella sofferenza per illuminarla della sua presenza da quel momento in poi sappiamo che vale davvero la pena fidarsi del padre essere fedeli alla sua parola e donarsi per amore anche quando attorno sembra tutto un fallimento anche quando il male sembra aver preso il sopravvento il nostro dio a volte silente non è mai un dio assente a volte tace rispetta per primo la nostra sofferenza è qualcosa di sacro non interviene condotte spiegazioni ma rendendosi partecipe delle nostre afflizioni dio ci salva dal vivere senza senso la sofferenza con la dolcezza della sua presenza che possiamo sperimentare sempre e soprattutto nei momenti più bui e dolorosi della nostra vita dove silente ci invita ad un abbandono più confidente per sperimentare nel nostro vuoto nella nostra solitudine la consolante dolcezza della sua presenza e della sua beatitudine che il signore vi benedica buona settimana santa a tutti pace e bene